Valorizzare la figura di Giustina Rocca, vissuta a cavallo tra il XV e il XVI secolo, prima avvocata della storia e mai dimenticata nella sua Trani. E questo è l'obiettivo principale del nuovo progetto, dal titolo evocativo Giustina Rocca, che proverà a rilanciare attraverso il teatro, ma anche un libro illustrato e altre iniziative culturali, la figura della prima avvocata d'Italia. Il progetto nasce dalla volontà di accendere i riflettori su una figura storica importantissima per la città di Trani, ovvero quella di Giustina Rocca, che passa alla storia come la prima donna avvocata del mondo. Così è nata l'idea di voler mettere in piedi uno spettacolo teatrale, una pubblicazione, un racconto, pubblicare un racconto inedito e poetico, e un itinerario turistico sui luoghi che hanno interessato la biografia di Giustina Rocca. La nobildonna tranese, dotata di grandi autori, tasse di grandi conoscenze giuridiche, che fu scelta come arbiter in una controversia ereditaria tra due suoi nipoti. Giustina, il giorno 8 aprile 1500, pronunciò in lingua volgare, per farsi comprendere dal folto pubblico di concettadini, la sentenza di tale arbitrato nel palazzo del tribunale di Trani, e per l'ufficio svolto pretese ed ottenne che le fosse pagata la stessa trigesima di compenso stabilita per gli arbitri uomini. Un compito, quello di avvocato, che naturalmente nel 500 non aveva ancora un ordinamento moderno, quale quello che esiste ora, ma la sua lunga carriera di quell'epoca è arrivata con tutta la sua valenza storico e culturale anche ai giorni nostri, ed ecco l'idea di partire con un progetto che avrà alla base un coinvolgimento diretto della società civile e delle istituzioni. Abbiamo scelto come strumento uno strumento idoneo a questo tipo di iniziativa, cioè il reward crowdfunding, uno strumento partecipativo dal basso che chiede ai sostenitori di donare 20 euro e con questi 20 euro il sostenitore si garantisce un biglietto per lo spettacolo, una copia della pubblicazione e un ticket per la visita guidata. Questa mattina in sala giunta del comune di Trani la presentazione del progetto con la sottoscrizione simbolica della prima donazione da parte del sindaco di Trani a Medeo Bottaro. Ricordo a tutti che era la prima corte d'appello, l'unica corte d'appello in Puglia a Trani ed era la terza in tutta Italia per importanza. Questo per farvi comprendere come poi non ci dobbiamo meravigliare se nel 500 la prima donna avvocata è Giustina Rocca. Un bel progetto che mira a restituire, secondo me, il giusto, affermando che la prima donna avvocata non è certamente dell'Ottocento, più quella dell'Ottocento è la prima iscritta all'ordine, ma nel 500 l'ordine degli avvocati non esisteva, quindi la prima donna avvocato in realtà è Giustina Rocca. Un progetto che va, dicevo, molto oltre perché prevede anche chiaramente aspetti culturali, giuridici, turistici. Sicuramente è giusto che abbia fatto io la prima donazione perché ritengo che sia un progetto più che meritevole e l'invito è assolutamente a tutte le associazioni a contribuire immediatamente a un progetto che appunto è aperto, ma soprattutto a tutti i tranesi e anche non, a contribuire in questa bellissima campagna.